buongiorno buongiorno cazzo ma perché perché la naffanculo oppure c'è la chiesa aperta occhio occhio comunque questa storia che una naffanculo sempre non è tanto bello però dà la carica la mattina però vi presento redbulletto chi è redbulletto? vi presento redbulletto vi mette le ali un'altra nuova stiamo metti da sedi per bene o no nonno metti da sedi per bene o metti da sedi per bene sta buono dai cazzotti guarda che ciuffo che fai subito siete andati a smerdo scappa al prete scappa al prete scappa al prete nooo redbulletto vi mette le ali redbulletto ma quanti ne inventa uno come si san michele io gli voglio dire nipote d'oro ti paga tutto da mangiare ristorante vabbè le compagnie ti porta in giro spazio motorino macchina e tanto no e tanto no perchè Filipe poi rie perché mercoledì dove andiamo? andiamo a Port San Giorgio alla stella adriatica show eeeh 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 oooohh o no che si fa? una sega che si fa? aaaaaaah o me ne vuoi? aah anche oggi in piattino niente male eh? o no? questa vuole? te lo do che dieta è questa? quella di coglioni questa è ah lunedì quella di coglioni? e già beh trecciolina e via passa da qui a qui bel salto un bel salto però durante la settimana non si sgarra mai mette un po' di olio sul prete coccodrilli comunque vi ricordo per chi se volesse gustare tutte le storie dei delle settimane dei giorni passati dei mesi scorsi basta fare swipe blablabla andare sul mio youtube dove c'è tutto praticamente tutto 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 il video addirittura un video è arrivato a un milione quello col booster quindi andate a vedere è lì è gratuito chiaramente eeeh e niente iscrivetevi al canale qualcuno di solito mi scrive che il momento migliore per guardare i miei video è quando state al bagno boh non so se o perché vi fa cagà o perché magari state più tranquilli boh non lo so un'altra cosa importante che mercoledì porterò i nonni al mare insieme a filiberto quindi fino a domenica sono molto contento e respireranno l'aria buona e molto più tranquilla la situazione eeeh sono f*****o ma ti vedi lì ma non è che eh eh ma sto ho messo oh mi puoi aver stemmiato ho messo la latta ti hanno levato i coglioni ti ho messo i capelli spati oh ti ho messo il c***o di dentro no no stronzo che stai facendo? ho messo i due c***o di dentro vado eeeh eeeh te l'hai messo i due c***o? eh no perchè è vero ho detto ho una martella di dentro eh ho messo i due c***o di dentro no no vai giocare a padel dai si oh vieni a giocare a padel no non ci vengo ho un allenamentino anche per le poccine eh oh basta che te ne vede anche per le poccine e levati di c***o vieni a fare un allenamentino no ti vede la poccina ti vede un po' oh dove lo vuoi fare un allenamentino? eh? dove lo vuoi fare un allenamentino? levati che io non me lo allenare attenzione sta scassando porta via mobili, cuscine, tutto quanto oggi allenamentone perchè? perchè domani bisogna battere il grande mister grande mister chi? serze e cosmi non ti pensa che domani mi batti eh ma mister ci provo vedi sei pronto? no no come hai visto? bene eh? sui polpacci dovresti bene si? ho mangiato la? bandierina del calcerambo perchè sei troppo dritto? eh ti pieghi vuoi vedere tu domani se ti pieghi mister no domani ti puoi piegare ora è 10 e 30 qua guardate quanto è teso sei pronto per domani? che tattica usi? ma massi ma massi no che scarpa sei la seda che? domani supermatch 10 e 30 panchina c'è stata una scissione abbiamo il mister zarri eeeh il sgarbi c'è anche massimo bolli e leo gullotta come mai c'è stata questa scissione? ehi sente freddo tira il vento tira il vento? che vento tira? eeeh tira il vento del bombardamento ehi sente freddo come te ria ooooh ooooh ma fermo salvatelo 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 resta le cazzo ma io sono stato anche dal mister no dal mister no però qualcuno bombarolo sei bombarolo hai visto che è ma o no che zompo che hai fatto che zompo che hai fatto hai avuto tutte le gambe di testa di cazzo dammi un pollo che sottopalla volcava mai solo fermati guarda come lì e che strappi? ci hanno strappati non si fa grane massimo bolli incredibile eeeh sono stato a Bergamo non trovavamo bene come gli altri mi sono lanciata bene come basta eeeh saluti cipollini oh mia bella madonnina ma ci dava la speranza senti invece cosa guarda il papa se li mette se li mette se li mette da retta se li mette no no lui è bravo se li mette va via se li mette da retta se li mette perchè praticamente stavano a gioco a card si si va via va via va via lo ha giocato il 3 de briscola e l'hanno ammazzato con l'asse e ha bestemmiato va via ha bestemmiato questo motore ma perchè dice queste cose va via va via va via va via dai via dai via dai via vaffanculo 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 e dopo? vaffanculo attenzione sembrava una serata calda e invece sta nevicando incredibile guardate come nevica sta nevicando su tutte le catene montuose anche a bassa quota incredibile sta nevicando che cosa da dire o no? che hai da dire? e dopo che fai? e poi? e dopo? e poi? e dopo? ma adesso puoi fare due acqua che fai? manno prima prima arzugle o no? ma questo è qua? sto a pulire ma questo è pulire, quello con questo? con lo stracetto ma camminiamo quel stracetto sto a pulire, anche lì sei un po' sporco guardate Sei un po' sporco, sei un po' sporco, lo straccetto Guardando Senti chi parla, sei clamoroso Che film con John Travolta e John un'altra volta La pubblicità, domani parte la partita col mister C'ho una cosa a livello musicale che è veramente importante Quindi mi devo un attimo allenare Ma smettola, cazzo giocolo! Oh! Eh! Smettola, cazzo giocolo! Ma c'ho il saggio o no? Ma il quadro della televisione? Ecco, non ha messo pure dietro C'ho il saggio o no? Ma cammini, non ha il saggio Il saggio, devo essere preparato Cioè, che sembra che il cittadentista di casa Ma non c'è il cittadentista di casa Ma fa sempre le porca, Camila! Adesso non ha questo il cittadino Quale? Questi sono il cittadino No! Camila, va via! Ma quel compositore? Ma quel compositore? Fai il compositore di coglione questo! Ma Camila, va! Sono il cittadino! Vai cantando, vuoi fare il cittadino! Ma vai cantando! Questo è un coglione! Ma! Fortuna c'è nonna che mi dice Volevo fare il compositore Ma è vero? Ma lui niente! O no? Nonno! Niente! Non accetta né la musica né Niente! Cristi Alley Bruce Willis E te è bene Sto cazzo! Perché lo so imitario anche! Vero? No!